Musica Hola gamers e benvenuti in questo nuovo video Io sono Andy Gamer, siamo tornati dopo 5 mesi a fare video Scusatemi intanto per l'abbigliamento molto informale Però capitemi, fa caldo Fa caldo, intanto qua dietro di me c'è un ventilatore che mi aiuta Adesso è spento perché non è il caso Siamo oggi insieme, qua intanto si vede parte del video Si vede solo da solo, però in realtà sono 5 video da non guardare Se sei da solo ringraziamo Mr. Amon per il video Non gli ho chiesto niente però speriamo in bene, copyright, non eliminare il video, grazie Siamo con un mio amico Salve a tutti L'avrete già visto, avete già sentito e mi ha fatto già una collaborazione con me in un altro video Adesso non mi ricordo, sono pigro e non c'è voglia di andare a vederlo Mi sa che era oggetti schiacciati da una pressa Grazie Mi sa che da ora sarà anche un mio assistente Va bene, iniziamo Che è meglio Scusatemi per l'attesa dei video che non arrivavano più Però mi sono preso un attimo del tempo per me Anche per fare qualche piccolo upgrade a un computer Beh, piccolo Un po' diminutivo dato che Ve lo dico dopo, è meglio iniziare Iniziamo a guardare questa compilation di video horror Che secondo me non lo sono, almeno per me perché io non mi spavento Secondo me invece si Secondo te io mi spavento? Secondo me no Ah vabbè Ma io probabilmente sì Ah Infatti ho parlato per me e non per te Un bimbo escluso forever Matteo E iniziamo Intanto questa è la intro molto non spaventosa La cosa mi tranquillizza molto La musica forse è un po' forte Perché ci hanno intanto gli obiettori quindi Numero 5 Salve ragazzi Sono Mr.Amon Ah io sono La telecamera a 360 gradi Riprende una serie di scene terrificanti L'ambientazione non è delle migliori Mentre un dipendente è rimasto solo a completare del lavoro I sistemi dell'ufficio segnalano la presenza o l'intrusione dell'ufficio di qualcuno Questa cosa mi induge a pensare con le vite Come prego non ho sentito niente perché c'era il video Prego parli La cosa mi fa inquietare parecchio Non ti preoccupare ci sono io Il suono va a controllare senza trovare nessuno Poco dopo però qualcosa accade Ora si trova Satana là dietro No Non avremo nessuna informazione riguardo a questa cosa Intanto la porta si è aperta Molto buona questa cosa Una stanza dall'altro lato si illumina E alcuni rumori di oggetti che cadono si iniziano a sentire Il dipendente è già piuttosto spaventato Si avvicina per spegnere le luci Abbiamo problemi con Matteo Sto laggando tantissimo Abbiamo problemi Abbiamo perso Matteo Matteo No come sto laggando Mi senti? Si Ok Mi sento Ok Cos'ho sentito Poi l'ho sentito tipo me stesso Strando Guardate la sua faccia intanto Com'è Molto 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 Non è per niente tranquillo Almeno mi dà questa impressione Io sarei già scappata in Brasile Ti capisco Ma proprio dopo di ciò La presenza intrusa si manifesta La telecamera rende chiaro come una sedia Venga letteralmente spinta verso l'uomo Costringendolo a fuggire No eeeh Si vabbè c'è la pone Cosa appena ho visto Non aveva questa cosa Costringendolo a fuggire E' partita una sedia Si ma sarà sicuramente motorizzata Forse Ma ovvio Ma poi guardate queste scritte Molto russe Almeno a me sembrano Un po' russe Ma poi sul pc Sul pc Sembra che stia giocando Minecraft Effettivamente E questo sembra un bs Aiuto Il mio youtuber No Ma lui è sparito Intanto i rumori continuano però E la luce si è spenta Una volta svuotato l'ufficio però La stessa luce torna ad accendersi E la porta Precedentemente chiusa Si riapre Una volta aperta però Una figura inquietante Sembra riflettere Cosa Una figura inquietante Non me l'aspettavo E la morte Distante dalla porta stessa Per poi Richiuderla violentemente No raga Questo non me l'aspettavo Questo veramente Non me l'aspettavo Questo non me l'aspettavo Veramente Number four Molto susse Un gruppo di amici Stano a via Ah perfetto Se iniziamo con questa ambientazione No Veramente si può No Questi qua sono i peggiori Già nel mezzo della notte Lungo alcune strade periferiche Di Teluk Baham Ma tu non puoi restare a casa Sei un cretino Veramente se esci in macchina Alle Alle Che ora sono Alle tre Alle tre ventiquattro Una cittadina Sull'isola di Penale Ma tu sta tornando a casa Mentre procedono nell'oscurità Un evento insolito E terrificante accade Una donna Vestita con abiti colorati Vaga solitaria Sull'oscuro ciglio Della strada Cosa No no Ancora Questa non me l'aspettavo Dopo pochi metri però La figura si presenta Più e più volte No 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 Fino a occupare La carreggiata E impedire ai ragazzi Il passaggio volato Intanto sento tipo Dei canti Che urlano Strane Ecco la cosa Non è per niente Ancora? Durante il quarto incontro Stranamente La radio Che fino a quel momento Era accesa Sembra perdere il segnale Ed essere disturbato Ma basta Ma basta Ma investilo Investila Ma basta Ma basta Ma è ovunque No questa qua Era la Donna E la sua vera natura Però ma poi Non sembra nemmeno Che sia seguendo la strada Sembra che sta andando Di là Proprio dritto per dritto Vabbè Number Number three Oggi sicuramente Il nostro amico Matteo Non avrà Incubi Ma per il momento Sono abbastanza Ecco Partiamo male Racconta di aver assistito A degli strani fenomeni Sul luogo di lavoro Racconta Di aver lavorato Nello studio Nelle ultime notti E di aver sentito Dei suoni Raccapriccianti E il rumore Di passi Lo studio Si trova In un edificio Piuttosto vecchio E spesso Gli ululati del vento Tra i corridoi Possono trarre L'inganno Ma la storia Che me ne è raccontata È ben diversa Sus Ma la storia È un po' di minuto E io ero in un ero In un uomo E io ero in un uomo E io ero in un uomo Che qualcuno Ha aggrava la parte La mia schiena A me Ha detto Praticamente Ah 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 Ecco Sono in sotto tritoli Volevo dirlo No 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 Ora si trova Matteo Salvini La morte Matteo Salvini Con la morte Sì O pur la morte Hello Eh eh C'è un gancio Moli Secondo me Viene appiccicato Al gancio E muore Cosa è venerdì 13 No tu sei un cretino Veramente Se tu devi Aprire la porta Dandogli un calcio Manco fossi L'FBI Se hai veramente Problemi Psicofisici Intanto mi sa che sei Ma questo sembra tipo Il bel bel Dell'autogrid Ma le apri tutte Prendendole a calci Che bello Ancora È passato un simbolo Tipo Vabbè Provando a trovare La fonte Di questi fenomeni L'uomo Sembra non aver avuto Troppa fortuna Se non fosse Per un piccolo dettaglio Proprio negli ultimi istanti Prima di chiudere La ripresa È possibile vedere Quello che sembra Il volto Di un ragazzino Sbuca Sbucare Sì Vabbè Ciao Paure Dall'ang Prima avevo detto Che non avevo paura Di niente Sbucolo sopra le scape Ti rimangi No eh sì Cos'è quel cosa Adesso No 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 ragazzi Non potete capire Mi È una posizione Impossibile Da raggiungere Anche Per un uomo Decisamente Ancora Alto No basta La cuore del video Non si rende conto Della sua presenza Se non dopo Avere visto ciò Che il suo cellulare Aveva ripreso Ovviamente No queste cose No queste cose qua no No Dai no No che schifo Che schifo Allora io non so Non so se mi fa più schifo O se mi fa più paura È stato registrato pochi mesi fa Nella città di Tampico Ma no fa riderezzo Uno degli stati federati No dai ma che schifo è Ma è un cane o un È un cavallo È un canallo Vabbè comunque È un salame Cioè visto da così è una seppia Comunque io ho visto cose del genere Ma solo che camminavano al contrario E non davanti E fa ancora più schifo In Messico In Messico Ecco Quando tutti dicono scappiamo in Messico No Piuttosto diffusa in queste zone del paese La leggenda della cosiddetta Nina Perro Una ragazza che dovrebbe avere Alle circa 25 anni Che schifo E che è stata avvicinata l'ultima volta Sempre in quelle aree Nel 2004 Se lo vado a sbattere Si rompa la faccia e cada Secondo i racconti Si tratterebbe di una donna deforme Dalle sembianze Che è deforme sicuramente Canine E che per tale motivo Si muoverebbe in quel modo Proprio l'inizio Come si è buttato per terra Ma stai calmo No il numero uno E quello più spaventoso di tutti No 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 Beh Facciamo una preghiera Quest'ultimo E un video non genuino Al padre Perfetto Perfetto Questo sembra Facciamo malissimo Questo sembra un cappio Io sinceramente Dovrei pensare un attimo Dovrei riflettere Se continuare il video Oppure stopparlo qua Perché se no Veramente Rischio L'infarto Ma Ma Montato ad arte Ma sicuramente ad effetto Ma va dai Riproduce una ricerca All'interno di una casa infestata In Giappone Ah in Giappone Quindi adesso arriva Ti vuole un sushi in faccia Probabilmente Ma arrivano i personaggi degli anime Dopo diversi Si chiama quel gioco giapponese Dove devi uccidere le persone Sei in una scuola Ah Yander Simulator Ti arriva una Yander Simulator Ti arriva una Yander in faccia Ti ammazza Ti squarta Perché l'entità maligna Che andava cercando Si Fermi tutti Che cazzo No no Dobbiamo vedere subito La parte più spaventa Aiuto No mo ti sbuca Un salame in faccia No 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 Cos'è che sto vedendo In questa precisa zona Cosa cavolo è Questo Io sto avendo già paura Non ho ancora visto niente Mi sta venendo l'ansia Io sono abbastanza tranquillo Lo sarei molto di meno Dopo aver visto sta cosa Allora se mi spavento Io Butto via le Proprio Lancio via le cuffie E me ne vado Ok C'è già paura Che vero S'ho fatto No 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 Ecco ora sei tranquillo Ancora Sì sì Sicuramente Mancano quattro secondi È la cosa più spaventosa In assoluto Ah poi mi sembra Una seppia Da così C'è un calamaro No ho già visto No ho già visto troppo Ma è Samara Sta roba cos'è A me sembra Una roba informe Sembra una testa Al contrario C'è che cacchia No 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 Io sto avendo Manca un secondo La cosa più spaventosa Voi non potete capire Quanto è paurosa Sta roba Ma è uomo No cos'è Sì vabbè Buonanotte Sì zia Calma però eh No 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 Sto morendo male Sto morendo male Intanto diamo Stiamo contro il muro Con sta Ma c'è pure una faccia C'è un sorriso C'è un sorriso C'è un cacchio Di sorriso Ma è un sorriso tipo Così C'è che cacchio No no io Confidenziale Io sono titubante Sul continuare Questo video Continua Vai uomo Ma c'è un respiro profondo Oppure Faccio La femminuccia E me ne vado Che faccio Faccio il vero uomo E lo guardo tutto È un respiro profondo È un respiro profondo Se vedi che va proprio carte 48 Vai via Cos'è carte 48 Che cacchio è In parole povere Se vedi che va male Te ne vai E fai la femminuccia Allora Tu dimmi Io guardo sotto Mi tolgo le cucchie E tu dopo mi devi dire Se è spaventoso Ho già capito No 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 Va bene vai È moderato È moderato Moderato C'è di peggio E c'è anche di meglio Io ho appena visto la faccia Ma è Samara veramente No ragazzi C'è di me È Samara veramente No io Io Veramente Sto per Ti capisco Che piangi No cos'era Sto suono Sperfermi C'è stato Sgozzato male No ha sboccato Cos'è questo suono Sbaglio È stato ucciso Eh Ancora Si suoni No è morto È tutto facile Morto No è morto È morto Almeno non c'è più il mostro Dai Mo tipo risbuca di nuovo No no Sì come nei peggiori film Ma telecamera continua a muoversi Ma lui è morto Eh la sta mangiando il mostro No 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 Lo sapevo Mi sembra Mi sembra bello Mi sembra bello però Lo sapevo No 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 Io non No 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 Fermo 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 Ma che c***o Guarda in giù E ti dico Se è possibile No 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 Fermo No no Sto morendo No no Tu l'inizio Mi hai detto Che non ti spaventavi Per niente Sì infatti No sta roba è fighissima comunque Devo Ho caldo Devo Fermiare no Ma continua a fare versi sto qui Sto facendo Eh vorrei vedere vorrei vedere Mica può cantare la macarena Ah perché la macarena si canta No ma io sto vedendo che Fa tipo si alza e poi si abbassa di nuovo Ah E' l'uncino di foxy Dio santo Ma questo è tipo seduta Si vede una gamba qua Che E' la samara giapponese Oppure tipo Allora sei in un bagno Può essere che sia Anakosan Facendo bisogni Ah 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 Mi sa che non Non dormirò Ah 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 Eh bello occhio comunque Poi andare per favore dell'oculista Eh signora Ah ah� Ma io non capisco perché continua a fare Ah 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 Sei balbuziente Ah 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 Cos'era sto suono? L'ho sentito una musichetta Porca miseria No, mi sa che alla fine ci sarà un jumpscare No, me lo aspetto tantissimo Ma va Non può mica far jumpscare, è un mostro Siamo mica su Five Nights at Freddy's Peccato che può succedere No, io intravedo qualcosa qua Non accadrà No, 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 no No, 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 no No, no, no Vai, dai, dai, dai Vai, dai, dai No, vai via, vai via Buttati nel cesso e finisci là dentro Porca miseria Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Bel finale No, no, no Voi non potete capire Voi non potete capire È netta Ce l'abbiamo fatta Grazie Gesù Grazie Non guarderò mai più video horror Ho capito Ma a me Io non è che sia tutto sto Sono soltanto spaventato in realtà Pensavo peggio Io pensavo decisamente meglio Pensavo non fosse così spaventoso No, no, no No, c'è Abbiamo finito Mi sta venendo anche un po' di maldito Un crampo allo stomaco Penso sia per la paura Aiuto Però No, io Devo guardare meglio No, non la guardo Ok, ho capito Ecco Non guardarla Sto sentendo suoni strani Da me Ma va bene È tutto Ok Vabbè Noi ci salutiamo E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.